Ciao, in questo video ti mostrerò come impostare la sveglia su un Casio G-Shock GA-2100, modulo 5611. Il primo passaggio è premere il pulsante in basso a sinistra alcune volte, finché non vedi A, L, M sullo schermo. Tieni premuto il pulsante in alto a sinistra per 3 secondi per accedere alle impostazioni della sveglia. Usa i due pulsanti sul lato destro per impostare l'ora della sveglia. Premi il pulsante in basso a sinistra una volta e ora puoi usare i due pulsanti sulla destra per impostare i minuti della sveglia. Puoi accendere o spegnere la sveglia premendo il pulsante in alto a sinistra. Se vuoi impostare una seconda sveglia, premi il pulsante in basso a destra una volta e ripeti gli stessi passaggi per impostare l'ora e i minuti della seconda sveglia. Puoi impostare fino a 5 sveglie su questo orologio. Premi il pulsante in basso a sinistra una volta per uscire dalle impostazioni della sveglia. Grazie per aver guardato questo video e iscriviti al mio canale. Grazie per aver guardato il video.